Dopo il successo delle scorse tappe, il grande jazz internazionale del 22esimo Peperoncino Jazz Festival e i vini delle aziende aderenti al consorzio di tutela DOP Terre di Cosenza saranno nuovamente insieme in questi giorni, per gli ultimi due appuntamenti di Woman Jazz & Wine, evento che dallo scorso 31 agosto sta portando gezzofili e denofili calabresi, ma anche i tanti turisti in vacanza in Calabria, amanti della buona musica e dell'enogastronomia di qualità, alla scoperta delle più belle cantine del Cosentino, per ascoltare le voci meravigliose delle signore del jazz all'ora del tramonto. Nato lo scorso anno da un'idea di Sergio Gimigliano, l'evento in questa sua seconda edizione è stato strutturato in otto tappe, in ciascuna delle quali, dopo un focus di approfondimento sui vari vitigni del territorio e la degustazione dei vini prodotti dai vignaioli aderenti al consorzio, ha trovato spazio anche l'archeologia, grazie ad una serie di conferenze di approfondimenti relative alle tematiche del vino nell'antichità, curate dal Parco archeologico di Sibari, resi possibili grazie all'operatività del direttore Filippo Demma e del suo pool di esperti. Questa è l'abbazia della mattina, è un monumento ed è un monumento tuttora di stile cistercense, ma prima di essere di stile cistercense era di stile benedettino, nacque appunto come abbazia benedettina, poi nel corso di un secolo si trasformò in abbazia cistercense per la presenza appunto dei monaci di sito, cistercensi. Questa che voi vedete è l'aula capitolare, questa dove noi ci troviamo, ovvero dove si riuniva il capitolo dei monaci per decidere ciò che dovevano fare in merito alla politica, chiamiamola così, aziendale. Poi questa abbazia divenne un'azienda negli anni dell'Ottocento, dopo l'Ottocento con l'arrivo delle prime truppe napoleoniche e appartenne al generale Luigi Valentoni che la trasformò in un'azienda agricola vera e propria. A San Marco Argentano è stata proposta la serata che ha visto in scena la contrabassista e cantante Beatrice Valente. Noi facciamo un repertorio di musica jazz, abbracciamo diversi stili che sono quelli tipici di New Orleans fino ad arrivare al calore di Rio de Janeiro, quindi musica brasiliana e non tralasciamo mai quelle che poi sono le nostre radici, quindi qualche classico napoletano perché noi siamo tutti campani e faremo un viaggio musicale insieme al vino che ci permetterà ancora maggiormente di viaggiare.